Il prossimo pezzo si chiama i tre canoni, viene dalla tradizione russa, ancora una volta dei primi del XX secolo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.